Buonasera ragazzi da Chef Giannino, stasera volevo fare un dolce, un bacio, un abbraccio a tutti un dolce in padella con delle banane, seguitemi ragazzi Ragazzi prendiamo le banane, le tagliamo, tre banane, perfetto, le tagliamo a metà così, ok, una, perfetto Chef Giannino non vi deluderà mai, ragazzi, guardate che spettacolo Chef Giannino, fa una torta con le banane al cioccolato, in padella senza forno vai Chef Giannino, continua così, tagliamo pure questa e ci siamo ok, banane tagliate, togliamo la buccia perfetto e continuiamo così, bene ragazzi, prepariamo 20 grammi di burro è un cucchiaio di zucchero, lo facciamo sciogliere a fiamma bassa nel frattempo che scioglie lo zucchero e il burro iniziamo a prendere una marmittina piccola un uovo, ok, un uovo, ci mettiamo 20 grammi di zucchero e iniziamo a formare, a sbatterlo perfetto ragazzi, sbattiamo per bene intanto che la padella ci sta sciogliendo il burro, sbattiamo, ci aggiungiamo 100 ml di latte mischiamo, 130 grammi di farina e formiamo una pastella ci aggiungiamo anche 20 grammi di cacao e ci aggiungiamo anche del lievita 8 grammi, giriamo perfetto ragazzi a questo punto spegniamo la fiamma prendiamo le nostre mezze banane e le mettiamo nella nostra padella così, ragazzi, uno spettacolo senza forno, senza niente Chef Giannino vi fa una torta spettacolare 20 minuti di cottura in padella è una cosa stupenda, Chef Giannino provare per credere, ragazzi perfetto, la posizioniamo meglio spegniamo la fiamma ci mettiamo questa di qua e ci siamo perfetto, Chef Giannino continuiamo a sbattere bene l'abbiamo messo in padella a questo punto abbiamo formato la nostra cremettina e la versiamo, eh uniformemente copriamo il tutto, ragazzi copriamo il tutto perfetto perfetto, ragazzi guardate, Chef Giannino che spettacolo di torta di torta in padella 20 minuti a fiamma bassa facciamo una torta di banane buonissima buonissima, ragazzi buonissima perfetto sistemiamo un attimo sistemiamo il tutto dai, che domani è domenica, ragazzi perfetto, ragazzi perfetto perfetto boh a questo punto ce n'è ancora un po' ancora un po' di cioccolato non devo sprecare niente a questo punto accendiamo la fiamma bassa prendiamo un coperchio 20 minuti e ci siamo ragazzi a dopo ragazzi sono passati i 20 minuti apriamo il coperchio che spettacolo che profumo di cioccolato vediamo un po' ci siamo è asciutta prendiamo un piatto vediamo un po' se riusciamo a girarla per bene e voilà mamma mia che spettacolo Chef Giannino che spettacolo Chef Giannino a questo punto ci mettiamo un po' di zucchero velo torta con le banane un po' di zucchero velo mamma mia che bella che bella torta Chef Giannino guardate 20 minuti in padella è tutto risolto poi cosa facciamo cosa fa Chef Giannino ci aggiungiamo ci aggiungiamo anche dei coriandoli gli diamo colore alla torta di Chef Giannino e voilà ragazzi guardate che spettacolo Chef Giannino in 20 minuti ha fatto una torta magari avete delle banane sa che le banane durano poco vanno subito a male fate una bella torta Chef Giannino vi auguro a tutti una buona serata torta di banane a cioccolato in padella un auguri a tutti ciao a tutti un bacio guardate